Bene, eccoci tornati di nuovo in studio, sempre qui nel dottor Pietro Scipione per parlare della fibrillazione atriale, disturbo del ritmo cardiaco. Abbiamo ancora due domande dai nostri telespettatori. Abbiamo Giuseppina di Porto San Giorgio che dice io soffro di ernia iatale, vi è una correlazione tra ernia iatale ed episodi di fibrillazione atriale? Ecco, anche questa è una buona domanda. Nel mio ambulatorio spesso si presentano pazienti che mi riferiscono che l'episodio di fibrillazione atriale è stato scatenato da una cattiva digestione oppure da un abuso alimentare oppure da un abuso alcolico. In effetti non vi sono dei dati diciamo molto chiari e molto precisi in letteratura, però vi è la teoria cosiddetta della spina irritativa, cioè un qualcosa che diciamo scatena la fibrillazione atriale con un meccanismo indiretto. Quello che si può dire diciamo in questo momento è questo. Il cuore anatomicamente appoggia sul diaframma. È chiaro che una maggiore ripienezza gastica dovuta appunto a un abuso alimentare, ad un abuso alcolico o comunque a digestione difficile può per questioni proprio meccaniche magari di sfregamento di alcune zone delle pareti cardiache portare ad una maggiore irritabilità e quindi a una maggiore probabilità di sviluppo di fibrillazione. Quindi in qualche modo la risposta è sì. Tant'è vero che molti di questi pazienti trattando l'ernia iatale o comunque modificando parzialmente le loro abitudini alimentari hanno trovato un beneficio anche sul numero e sulle caratteristiche degli episodi di fibrillazione atriale. Quindi devono fare attenzione a non mangiare molto. Assolutamente sì. È chiaro però che questo succede nei pazienti che comunque ha una sopra predisposizione a sviluppare la fibrillazione atriale. Cioè non tutti i pazienti che fanno abusi alimentari. Per fortuna. Per fortuna. Perché sono una di quelle. Assolutamente sì. No, però è importante che in qualche caso i pazienti riferiscono proprio una situazione di questo tipo. Altro aspetto importante, sempre per parlare di spine irritative, molto spesso i pazienti riferiscono che la fibrillazione si scadena quando sono in assoluto riposo. In relax e riposo. Questo è un aspetto importante perché quando i pazienti hanno riposo il cuore cosiddetto è bradicardico, cioè batte a frequenza molto più bassa. In quei casi vi è una maggiore, adesso parlo un po' difficile, una maggiore dispersione della riflattarietà. Quindi la riflattarietà della cedebita cardiaca è più dispersa. In quei casi una singola extrasistole può colpire con maggiore probabilità il periodo vulnerabile del cuore e scadetare la fibrillazione atriale. Quindi anche qua diciamo molto... Anche quando uno riposo insomma può capitare. Assolutamente sì. Molto si sta studiando proprio su questo per capirne i meccanismi fisiopatologici. Comunque un nesso c'è sicuramente. Ho capito. Poi abbiamo Mario Di Macerata che dice che ha avuto un infarto e nella fase acuta mi hanno detto che ha avuto anche una fibrillazione atriale. Come mi devo regolare? Allora, in questo caso bisogna verificare con attenzione se, come è probabile nel caso del telespettatore, la fibrillazione atriale non sia stata una manifestazione di accompagnamento dell'ischemia miocardica. Cioè se si verifica un infarto con una importante disfunzione venticolare a sinistra, quindi con modificazione anche dal punto di vista emodinamico delle pressioni e dei volumi delle camere cardiache, una delle conseguenze può essere lo sviluppo della fibrillazione atriale. Più o più banalmente ci può essere la cosiddetta una disionia, cioè una modificazione degli ioni del sodio del potassio che può portare allo sviluppo di fibrillazione atriale. Quello che è importante è se poi l'episodio di fibrillazione atriale non si è più ripresentato dopo l'infarto e se diciamo a situazione post stabilizzata l'episodio non è più presente. In quel caso può essere considerato un epifenomeno dell'episodio ischemico, per cui la risposta è tranquillizzante. Ripeto, se non è residuata una disfunzione venticolare a sinistra c'è una perdita del tessuto miocardico in conseguenza dell'infarto. Dottor Pietro Scipione, ma quali sono le migliori terapie disponibili al momento? Ci sono fatti passi avanti rispetto a... Allora, ci sono, come abbiamo già in parte accennato a questo aspetto, ci sono due grossi filoni di ricerca sui quali ci stiamo muovendo. Uno è la terapia cosiddetta farmacologica, cioè la terapia di gestione propriamente del ritmo cardiaco. Ci sono farmaci che sono in uso ormai da moltissimi anni, da decenni addirittura, varie classi farmacologiche, farmaci di classe 1 cosiddetta, sono la classificazione dei farmaci antiretrici e farmaci di classe 3. Se ne sono aggiunti di nuovi farmaci che hanno dato qualche speranza, in alcuni casi è andata delusi, in alcuni casi invece che è stata esaudita. E quindi sicuramente da questo punto di vista... Perché non su tutti ha lo stesso effetto, perché in alcuni casi è stata delusi, in altri no. L'ho detto già prima. Eh, non solo vuole ritentare. Sì, no, no, nel senso che... No, infatti chiarivo. No, il discorso è che chiaramente il farmaco va scelto in maniera sartoriale, su un singolo paziente. Quindi su una persona può avere effetto e su un'altra no, ecco. Sono usciti alcuni farmaci nuovi, uno di questi per esempio è il drone d'arone, che si pensava potesse in qualche modo prendere il posto dell'amiodarone, che dà dei problemi, come tutti sanno, a livello tiroidea. Quindi un farmaco molto efficace, ma gravato da importanti effetti collaterali. Ebbene, il drone d'arone ha in parte risposto alle attese, in parte no. Si sta adesso vedendo il perché e per come, però era un farmaco molto promettente, lo è ancora parzialmente, bisogna sicuramente ancora studiarlo in maniera estensiva. Ci sono nuovi farmaci antiaritici che per esempio sono stati utilizzati per la interruzione acuta dell'aritemia, perché si è visto interrompendola il più precocemente possibile, l'aritemia tende a comportarsi da virgolette meglio. Uno di questi è il vernacalante, però è un farmaco che poi non è ancora entrato in commercio per questioni, diciamo, cosiddette commerciali. Quindi la ricerca è estremamente ferve in maniera notevole per quanto riguarda la terapia farmacologica. E questo è importante. E questo è molto importante. E poi vi è il grosso campo della terapia interventistica. Ne ho già in parte accennato precedentemente al discorso dell'ablazione transcatetere. Ci sono delle immagini che magari ci possono, se le possono mandare, che ci dimostrano invece, ci fanno vedere come, oltre a, diciamo, alla metodica tradizionale dell'isolamento delle vene polmonari, quindi sotto controllo radioscopico, come si è visto dalla immagine precedente. Adesso ci sono dei sistemi cosiddetti di mappaggio non fluoroscopico, cioè dei sistemi di mappaggio che vengono fatti senza l'ausilio dei raggi o con pochissimi raggi. Questi sistemi sfruttano le potenzialità dei campi magnetici che possono essere, diciamo, mappati da un piccolo sensore che ha la punta dei cateteri e possono ricostruire in maniera molto, molto fedele le camere cardiache. Questo fatto ci consente di agire in maniera estremamente precisa ed estremamente mirata. Quindi, anche in questo caso, diciamo, le speranze sono molto, 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 molto buone e molto fondate. Speranze di poter, diciamo, in qualche modo andare a dentare sempre di più con precisione nel meccanismo della fibrillazione arteriale. Questo, tra le altre cose, oltre a dare, diciamo, risultati migliori dal punto di vista dell'impatto, dell'impatto, diciamo, come risultati clinici, ma anche un impatto positivo nel senso di riduzione dell'esposizione ai raggi. Perché adesso noi, purtroppo, siamo ancora, in qualche modo, obbligati ad utilizzare i raggi per la maggior parte delle procedure interventistiche e elettrofisiologiche. La possibilità di farlo senza utilizzare i raggi, quindi senza gli effetti negativi delle radiazioni ionizzanti, è sicuramente un aspetto ulteriormente importante. Oltre a questo, l'ultimo aspetto è quello dello sviluppo di nuovi cateteri. Si sono sviluppati dei cateteri che hanno delle caratteristiche, diciamo, costruttive e di mappaggio estremamente sofisticati. Quindi vanno a studiare non un singolo punto del cuore, ma più punti del cuore. Questo ci consente di capire molto di più della fibrillazione arteriale, per esempio, dove nasce, qual è la sede responsabile, la vena responsabile, la zona responsabile dell'innesco di aritmia. Quindi ci consente, in casi, purtroppo adesso ancora selezionati, una terapia molto precisa. Bene, questo è molto importante. Bene, noi siamo giunti al termine della trasmissione, ringraziamo il nostro ospite, il dottor Pietro Scipione, per essere intervenuto. Grazie a voi. Grazie. Ecco, noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento, la neurochirurgia pediatrica, strategie chirurgiche innovative. Sempre mercoledì alle 20.50 sul canale 11 e per la visione in HD sul canale 511, mentre giovedì alle 20.45 sul canale 675. Vi ricordo, inoltre, che potete intervenire da casa, chiamando alcuni giorni prima della messa in onda della trasmissione, e potete telefonare al numero 071 75 74 372, oppure inviare un'e-mail a onertv.it e gli ospiti presenti risponderanno a tutte le vostre domande. Arrivederci alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.